Continuare sulla strada del salvataggio del CSTP. Dopo le dichiarazioni della Presidente del Collegio dei Liquidatori, Santocchio, che da telecolore aveva ribadito la volontà di procedere alla ricapitalizzazione anche a fronte di possibili tagli o comunque riduzioni dei fondi messi a disposizione dalla provincia di Salerno nell'ambito della spending review, i sindacati nel pomeriggio di oggi hanno firmato un'intesa con l'Azienda della Mobilità sull'attuazione del piano industriale che passa inevitabilmente per nuovi sacrifici e riduzioni dei costi del personale. I sindacati hanno accettato un taglio del 7% del salario mensile e la sospensione dei ticket per aiutare l'Azienda della Mobilità nel percorso verso la revoca dello stato di liquidazione ed il salvataggio definitivo. Un'intesa che sarà sottoposta al referendum tra i lavoratori da effettuarsi entro il 31 dicembre. In serata poi confronto napoletano con l'assessore regionale alle politiche del lavoro Severino Nappi, oggetto di questo secondo incontro previsto per oggi, gli esuberi che come ribadito questa mattina da Santocchio con l'adozione di nuovi tagli da parte della provincia o comunque a causa della spending review potrebbero aumentare rispetto ai primi calcoli. Si parla di 130 lavoratori in più per i quali i sindacati, alla luce del verbale dei giorni scorsi, hanno chiesto oggi la cassa integrazione in deroga alla regione Campania tramite l'assessorato di Nappi. L'intesa raggiunta oggi tra sindacati ed aziende intanto è stata definita come un grande atto di responsabilità dall'assessore ai trasporti del comune di Salerno Cascone, che ha ringraziato anche a nome del sindaco De Lucchi i lavoratori, invitando tutti i protagonisti della vicenda allo stesso senso di responsabilità. Intanto l'assessore provinciale ai trasporti ha chiesto di non fomentare inutili allarmismi, sottolineando la priorità assoluta di salvare il CSTP e la volontà di Palazzo Sant'Agostino di ricapitalizzare. Allo stesso tempo Napoli ha preso atto delle note del dirigente del settore finanziario della provincia che aveva proposto per l'annualità 2013 il riequilibrio di bilancio con una serie di tagli, tra i quali quelli denunciati ieri nell'incontro informale tra i soci del CSTP per circa 5 milioni di euro sul trasporto pubblico, ribadendo che spetterà l'aggiunta, alla luce della legge di stabilità, definire la questione.